Nella mattina di mercoledì 18 settembre, la Polizia di Stato squadra amministrativa della divisione PAS della Questura di Novara ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal questore, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale veniva disposta la chiusura per sette giorni di un bar in zona stazione FSA Novara ubicato in via San Francesco d'Assisi. L'ordine si è reso necessario in seguito ad esposti sulla situazione di... Grazie a tutti!